Ciao a tutti ragazzi sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio portare la seconda espansione di Sword and Sorcery Uscita più o meno nel periodo Luca Comics Voglio ringraziare di cuore Lares per averci offerto una coppa per la recensione E Devil Italia, avevo detto nel video precedente, l'avete visto questa qui è la scatola base E questa è l'espansione, nel video precedente mi corrego comunque andando a ritroso di un mesetto, un mesetto e mezzo lo ritroverete Avevo detto che questa era la prima espansione Ma qualcuno mi ha fatto notare che effettivamente un'espansione era già uscita precedentemente Quindi questa qui è la seconda ufficiale cash del gioco Poi, primo link in descrizione trovate tutti quanti i link che rimandano appunto non soltanto all'acquisto Ma anche a tutti gli altri pacchetti che ci sono Perché vengono venduti anche eroi, singolarmente, oppure vengono venduti anche altre piccole espansioni Queste sono le espansioni più grandi E infatti vi dicevo che la prima espansione che è uscita per il gioco base, che è questo, era Portale Arcano Portale Arcano ovviamente lo potete trovare sempre sul sito ufficiale E quella è un'espansione che da quanto ho capito è il proseguo della storia Quindi la storia che finite nel gioco base, che ovviamente non vi spoilerò Continua con questo Portale Arcano per poi portare a questo Per quanto questa espansione, come vi dissi già nel video precedente Si può giocare con personaggi che abbiano un livello d'anima almeno di 4 Quando leggerete il manuale vi dirà, anche 3 va bene Però 3 siete proprio al limite Perché anche i mostri che trovate dentro, gli incontri e le storie del libro dei segreti Sono tutti quanti calcolati su personaggi comunque di alto livello Male male che vada Livello 3 di anima Infatti è bello che in questa espansione verso le tenebre Se voi morite, lo sapete, il regolamento del gioco vuole che ogni volta che il vostro eroe muore Perdi un livello d'anima Anche qui è lo stesso Però sotto il livello 3 non potete mai andare Perché se morite due volte e tornate magari al livello anima 1 o 2 Vi scoppiano mostri, cioè proprio non ce la fate a combatterli E quindi è un proseguo della storia che come Portale Arcano però vi chiede Dei giocatori, dei personaggi con un livello d'anima abbastanza alto Quindi non potete assolutamente magari dire Guardate, io sono uno di quelli che non segue tanto la storia Ma voglio giocare le mappe a sé stanti Magari come io e mia moglie che non siamo tanto per giocare le campagne intere Ma siamo più per giocare varie missioni singole Perché magari ci si divette così, quella lì c'ha tira, c'ha un tipo di mostro particolare Questo lo dovete giocare soltanto avendo personaggi d'anima abbastanza alto Quindi consiglio spensierato partite dalla scatola base Anche perché per giocare a questo vi serve comunque la scatola base Perché è un'espansione, non è uno stand alone E poi il regolamento di gioco, ci sono qualche regoluccio opzionale ma poca poca roba E il regolamento è lo stesso di Sword and Sorcery Quindi comunque i giochi dovete prendere tutti e due Però prima giocate le avventure di questo E ora vi faccio vedere un pochino cosa c'è dentro E vi dico quelle regolette in più appunto che ci sono Unboxing Questa è la scatola dell'espansione Sword and Sorcery verso le tenebre E ribadisco, mi scuso però può capitare, è stata una svista mia E' la seconda espansione uscita che appunto porta avanti la storia e la campagna E in questa storia i nostri eroi saranno chiamati a combattere un signore oscuro E i mostri che andremo a fronteggiare saranno soprattutto demoni e non morti Quindi anche come ambientazione, se posso dire un po' alla mia, mi garba da morire Perché mi rimanda un po' a Diablo 1, Diablo 2 O volendo anche l'inizio, l'inizio di Diablo 3 Perché vecchi giochi della Blizzard, vi ricordate dove il nemico principale O come abbiamo visto anche nei film di Conan il Barbaro con Schwarzenegger Dove la trova la spada di Atlantide In un'antica tomba piena zippa di scheletri Ed era un po' la concezione che quello che Sword and Sorcery cerca di fare Secondo me lo fa anche egregiamente Di riportare il fantasy all'old school Laddove i combattimenti erano principalmente contro orchetti, goblin, magari gremlin Orchi, troll e soprattutto ovviamente non morti E infatti i nuovi nemici che andremo ad affrontare saranno tutti Roteranno tutti intorno a non morti o comunque demoni e cose del genere Vi faccio vedere un po' com'è Comunque la confezione è abbastanza grande ed è bella colorata, mi piace Tra l'altro molto scura e cupa un po' gotica come Tony Però è veramente spettacolare Apriamo Questo qui è un piccolissimo resoconto delle regolette Ma proprio a livello di regole, non di narrazione e di storia Proprio a livello delle regolette quello che c'è Ovviamente ci dà qualcosina in più sugli eroi Ci dà anche poteri dei nemici Strappo in volo e altre cose nuove appunto Perché i nemici che ci sono qui Vedremo ci sono delle specie di succubite demoni con delle ali Di forma femminile Che loro hanno il potere del volo Quindi comunque subentra anche un'altra meccanica Il volo Che il volo in Sword and Sorcery ci dice Che puoi passare su tutti i tipi di terreni Anche quelli impervi ovviamente puoi passare O quelli chiusi magari da barricate Ci può passare attraverso Sprecando soltanto un'azione di movimento Quindi il volo Come già se l'ha visto su Sword and Sorcery E in più Si può assumere la forma del lupo Come il licantropo O il dono scuro di vampiro Quindi c'è anche la possibilità Per i giocatori, i nostri eroi Assumere Oltre che la forma spettrale Quando e se moriranno Assumere anche queste forme spettrali Un po' che ci rimandano anche i vampiri O i licantropi Quindi le regolette Più ovviamente carte nuove Le regole sono poche ragazzi Sono veramente poche Regole in più Vedete c'è sempre il solito terreno impervio Oppure il terreno che dove quando entrate Vi dovete sprecare un movimento in più O vi fa una ferita Quando entrate o quando uscite Insomma Sono due pagine Così fronte e retro Che vi spiegano un po' le cose nuove che ci sono Libro dei segreti Verso le tenebre Ve lo faccio vedere un pochino ragazzi Perché Qui siamo veramente a rischio spoiler Quindi anche vedete i disegni che ci sono dentro Tutte quante le regole Soprattutto le tracce Che ci sono all'interno Le tracce dell'avventura E gli eventi sia pubblici che non Comunque quelli che poi troverete Nei vari setup delle mappe E ragazzi basta Veramente perché Cioè Il bello Diswarded sorcery è questo Se ci levate il libro dei segreti È un po' insomma Lo rovinate Secondo me al 50% Libro delle storie Ripeto ancora una volta Il regolamento non c'è Perché ovviamente è un'espansione Del gioco di base Però il libro delle storie Dove Qui Senza rischio Spoiler né niente Vi fanno vedere Il setup delle nuove mappe Quindi il setup Delle nuove mappe Della nuova campagna Tra l'altro Con le nuove pedine Che ci sono Ma Potrete usare anche le pedine vecchie E delle altre espansioni Perché Capiterà magari nel mezzo Di trovarci un orchetto O un gremlin O qualcosa del genere E qui vi fa vedere Il classico setup di sempre Qui si vedono Tutte quante le pedine Che ora poi vi apro Vi faccio vedere un pochino Nel dettaglio E al solito I colori sono sempre Quelli classici I colori sono Da un mostro verde Che ho Prendendo sempre World of Warcraft Mostro di base Quindi Classico Peon Comunque mostro Truppa di base Andiamo a un mostro blu Che è un elite Andiamo a un mostro Di colore rosso Che è un boss E andiamo a un mostro Di colore viola Comunque porpora Che è un arci nemico Quella che vedete qui Invece grigia È la forma Che vi dicevo Di licantropo E anche questa Secondo me È una figata unica Al solito ragazzi Guardate Il livello di dettaglio Di queste miniature Che è spettacolare Bellissimo Rendendo a paura E questo È una delle succubi Appunto dei demoni Come vi ho detto Principalmente Sono quelle creature Quei nemici Alati Quindi possono volare Sul campo di battaglia E non soffrono Delle limitazioni Al movimento Appunto di alcune zone Uguale Soltanto di colore blu Andando appunto Su un elite E quindi sono mostri Che hanno più punti ferita E ovviamente Fanno altri tipi di attacchi E hanno un altro tipo di scheda Per l'intelligenza artificiale Un combattente O comunque Una specie di centurione Non morto Anche qui Con la lapide dietro Che si è appena alzato Bellissimo Mi piacciono Andar a morire Un licantropo Mamma mia Anche qui Fine del mondo Mi guardano Veramente tantissimo I dettagli di queste miniature Sono molto belle Secondo me Ispirano anche qui Alla pittura Per quanto Ve lo dico sinceramente Occhio a pitturarli Perché i colori Delle miniature Hanno un senso Cioè se voi pitturate Una miniatura E poi non vi ricordate Quale tipo è Metterla in gioco Potrebbe essere un problema Perché se voi pitturate Un mostro verde E un mostro blu E li fate degli stessi colori Che siano uguali Poi come vi ricordate Qual era il mostro base E qual era l'elite Ecco magari Se le dovete pitturare Consiglio mio Fate un simbolo Sul lapidino Qualcosa Insomma che si riconosca Un mostro elite O la colorate lì Ecco La potreste colorare anche lì Lasciate la rima Magari qui Del colore Come consiglio a mia moglie Infatti Tutto il resto lo colorate E lì il giro Lo fate del colore Che dovrebbe essere Per concludere Con un signore oscuro O un necromante Dei non morti Che è veramente qualcosa Di spettacolare Con le ali scheletriche Sono belle Nuovi tile di gioco Ovviamente per le nuove mappe Della nuova campagna Verso le tenebre E dietro poi vedete Ci sono anche tutti quanti Token Tipo Malus all'armature Token Scudo per l'armature Insomma e quant'altro Che si è visto nel gioco base Nuovi mazzi talento Quindi per gli eroi Sia talenti per gli eroi Che talenti generici Ed equipaggiamenti E di qua invece abbiamo il mazzo Eventi E tutto il resto Quindi tesori E quello che potete trovare In questa avventura Questi sono i mazzetti Schede intelligenza artificiale Dei mostri Quindi quelle nuove che ci sono Più davanti Carta Per la forma Appunto per il dono scuro E per la forma Dell'ecantropo Che vi dicevo E le carte Dei mostri Quindi queste sono le carte Dei mostri Mentre invece di qua Abbiamo le carte Dell'intelligenza artificiale Per muoverli Ecco qua Tutto quanto In conclusione Ci sono un po' Di regolette in più Però le regolette in più Ragazzi sono tutte quante Scritte qua Ed è veramente Poca roba Quindi tranquilli Di solito quando esce Un'espansione di un gioco A parte Zombicide Ci buttano sempre 300 regole in più Che uno Una volta potrebbe dire Io voglio giocare Voglio fare una partita Con tutte e tre Le espansioni messe insieme E c'hai Non più le 5 regole di base Ma ce n'hai 50 Perché ogni espansione Ne aggiunge un casino Qui no Quindi andate tranquilli C'è poca roba Ovviamente qualche carta nuova E qualche evento nuove Magari un paio di token nuovi E creature volanti Qualcosa in più c'è Però comunque Regole in più Non ce ne sono Quindi anche quello Andate tranquilli Come avete giocato Il gioco base Lo spacchettate L'aprite Preparate la mappa Pronti a giocare Quindi 2 minuti davvero Il contenuto è notevole Però non poteva essere Altrimenti Perché ogni volta Quando hanno fatto Sword and Sorcery L'hanno fatto Con un'idea fissa in testa E un pensiero preciso L'ho letto Infatti sulle varie recensioni E l'hanno rispettato Con questa espansione Volevano fare Un prodotto di qualità Semplice Per tutti E che ci rimandasse Al vecchio old school Ai giochi Magari dell'anni 80 90 Tanto Uno può fare Tutti i dungeon crawler Che vuole Può fare Qualsiasi gioco fantasy Che vuole Tutti i giochi Ed è la verità Tutti i giochi fantasy GDR Verranno sempre da D&D Saranno costole Di D&D O comunque di altri Vecchi sistemi Tipo Rollmaster Gurps Ed altro Puoi fare quello che ti pare Ma tanto sappiamo tutti Che è così Tutti i giochi da tavolo Dungeon crawler Tanto Cercheranno sempre Di ispirarsi E battere HeroQuest Battere non ci riuscirà nessuno Perché HeroQuest è unico Però comunque Ci sono giochi Che ci si avvicinano di più A HeroQuest Rispetto ad altri Ad esempio Un Descent Da una parte ci si avvicina Magari Sword and Sorcery Da una parte ci si avvicina di più Magari Dungeon Saga Per il fatto dei componenti Che c'è dentro Che comunque ci sono anche Su Sword and Sorcery Solo che non ho fatto il Kickstarter Se no ti davano anche gli screen I 3D E tutto Bellissimo Vabbè lasciavo sta E Chi più chi meno Ci si avvicina Comunque quello che cercano di fare È di creare un dungeon crawler Che sia divertente E giocabile da tutti Ora Anche questo segue Come il gioco base Le mie stesse impressioni Ovvero che È un gioco per tutti Però È un gioco più Per fanatici del genere Cioè Questo non lo portate In casa Di cuginetti O familiari Perché ci vuole un bel po' A spiegare le regole Soprattutto Il setup iniziale Almeno un quarto d'ora 20 minuti Ve lo porta via E ci sono tante cose da spiegare Perché semplicemente Da un tiro di un dado Non c'è solo colpito Un mancato Ma magari c'è anche il fulmine Che attiva un'attività Un'abilità C'è il simbolo Dell'elmo con le corna Che è un colpito C'è il simbolo Dello scudo che ho imparato Insomma Ci sono almeno 4-5 simboli Da tenere a mente Che a seconda Delle varie abilità Talenti O reliquie Che vai a impugnare Anche armi Potrebbero attivare qualcosa Insomma C'è tante cose da tenere a mente È un gioco per tutti Però è un gioco per tutti Gli amanti del genere Partendo da Hero Che sta arrivando Fino a Dash In tanti giochi Questo portato a casa Di Non è un gioco da famiglia Ecco Mettiamolo così È un gioco solamente Per un pubblico È un pochino più avanzato Come l'età Mi sentirei di consigliarlo Dai 12-13 anni in su Comunque In questa espansione Seconda espansione Verso le tenebre C'è un casino di roba Come abbiamo visto Carte, talenti Più ovviamente Equipaggiamenti e quant'altro Un casino di nuovi eventi Nuovo libro Delle storie con i setup Nuovo libro dei segreti Nuovi mostri Che poi le pedine Sono veramente tante Belle fatte bene Quindi di alta qualità E quindi È un gioco che Assolutamente È un'espansione Che non deve mancare Però consiglio spencerato Io ho detto da amico Prima Ora si è trovata Un'offerta Trovate magari Quello Un'offerta O magari Sotto Natale Che a 120 150 euro Vi dà Sword and Sorcery Più tutte le espansioni Prendetela Subito al volo Però Prima per vedere Se vi garbo tutto Prendete Sword and Sorcery Giocatelo Finite la campagna Anche perché È risiocabile Se la giocate Come legali buoni Va in un modo Se la giocate Come caotici malvagi Va in un'altra strada Quindi prima Finitela Poi comprate Portale Arcano E poi comprate Questo Però questo La potete comprare Anche direttamente Dopo Senza Portale Arcano Perché comunque Potete collegarla Alla storia Se li devo dare un voto Li do assolutamente Un 8 su 10 Meritatissimo È un'espansione Che lo valorizza Non aggiunge regole in più Ed è un bene Quindi aperta e giocata Però aggiunge Tante cose in più Alla storia E Scusateci Se non ci facciamo Un gameplay Però Prendere il gioco base Tutte le cose Se più questo Non abbiamo nemmeno Tanto lo spazio Ma non vi preoccupate Perché nelle prossime Settimane Arriverà un gameplay Completo Della prima missione Di Sword and Sourcery Così anche quello Vi servirà Per farvi un'idea in più Per vedere se Senza tagli né niente Quindi per vedere Se vi piace Come tipo di gioco Oppure no Ma io sono convinto Che se come me Siete amanti Di HeroQuest E di Dungeon Crawler Non ve lo farete scappare È veramente Un gioiello Io ringrazio Ancora una volta Ares E David Italia Per averci offerto Una copia di questo Capolavoro Quindi grazie veramente di cuore ragazzi Siamo sempre aperti Ovviamente a collaborazioni Ed è un onore Collaborare con voi E grazie per questa possibilità Grazie davvero Apprezziamo molto E quindi un gioco Che non deve mancare Potrebbe essere anche Un bel regalo Appunto ad affare Un amico Comunque qualcuno Che è fissato Che già ha La copia base del gioco Quindi grazie veramente di cuore E trovate il primo link In descrizione Per il sito Della Ares Dove trovate Tutte quante le espansioni Che sono uscite Vi lasciamo anche Quello di David Italia Tutte quante le espansioni Gioco base Così vedete anche Tutta la Roma in più Che c'è E ovviamente Tutti quanti anche I link ai nostri social Fatemi sapere cosa ne pensate In un commento E ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi